Cetara incantata la magia Mercoledì 21 agosto one eye jacks spettacolo a cura del circo bipolar Giovedì 22 agosto incanto a cura della compagnia dei folli Venerdì 23 agosto fuoco a cura della compagnia dei folli Sabato 24 agosto concerto galleggiante sulle note dei color play Ed effetti piromusicali dal porto di Cetara spettacolo pirotecnico della ditta Mansi Cetara incantata la magia dal 21 al 24 agosto 2024 ingresso libero ti aspettiamo Grazie per la visione!